Con numero quattro, Henry Pasquil. Con numero sette, capitano Giuliano Maesta. Con numero otto, Dio Lusa. Con numero nove, Marco Mordente. Con numero dieci, Domenico Marzaioli. Con numero undici, Sanzini. Con numero sei, Digni Stefano Gentile. Con numero sei, Digni Stefano Gentile. Con numero sei e sette, regalare a Chintene. Con numero sei, Digni Stefano. Con numero sei. Con numero sei. Con numero sei. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.